si sente si, si sente ok, allora benvenuti a questo stream di Monster Hunter Online che è in attesa di avere essenzialmente Monster Hunter World e poter giocare la beta si gioca un po' a questo che è la versione cinese di Monster Hunter completamente facciata in inglese tra l'altro Stefano mi ha raggiunto di livello? come osi? eh già se sei forte sani se sei forte sani, giusto comunque cosa dobbiamo fare? ah, io dovevo vedere se avevo abbastanza materiali per potenziare l'arco del castorone per la storia io l'ho sbloccata la questa non so se l'hai sbloccata pure te io in realtà stavo aspettando te non so se ti ricordo shhh shhh comunque vediamo se posso potenziarlo se no ti chiedo di farlo un'ultimissima volta allora questo dove è l'arco? shiii eccolo ok c'ho tutto vai non voglio usare la moneta grazie spendo i 6.400 che devo spendere yes per il prossimo serve è roba roba livello 10 quindi questa è roba mi sa ancora più alta però adesso ce l'abbiamo fatta allora come si fa le cose mi sa che quelle per la storia bisogna qua dentro e basta eh? semplicemente andrà dritto eh devo andare al cancello devo andare al cancello ah ma sei te il capo da quando? da quando mi sono disconnesso prima giusto? perché questo bellissimo gioco è totalmente free to play però ha i server cinesi quindi appoggiandosi ai server cinesi ovviamente possono succedere delle robe però questo Monster Hunter ha una storia vera e propria con cutscene e personaggi che parlano cinese e ovviamente per la traduzione inglese la gente ha tradotto la roba importante la storia di un Monster Hunter non è mai stata importante uccidi 7 Melnix vabbè manca di che prendiamo queste robe cioè andiamo e basta ora dobbiamo o dobbiamo fare i razzisti dobbiamo ammazzare solo i gatti neri e quelli sono i Melnix per me sono nella 2 ecco lì tutti i neri tutti rigorosamente what the fuck deviamo un attimo dalla quest vera cosa c'è laggiù ehi ragazzi ehi ragazzi ciao perché si li ammazziamo in me eh non sono autorati lo so però mi fa sempre comodo i materiali almeno del caso oh mio dio l'ho paralizzato di nuovo no aspetta non è ancora morto paralizzato pure l'altro ok quello è morto vabbè mmm carbiamo questo no no non sta carbando che adesso sta carbando brava pensaci te brava stai andando benissimo guarda stai andando alla grande non proprio stai andando alla grande ti ammazziamo pure questo eh non gliela favo oddio dio forse uno si no e niente wow che foto finale non capisco no lo sai che lo sai che questa foto finale sto dentro al castoro tipo le interiora non si capisce molto bene comunque è durata molto poco siamo un po' allivellati per queste queste di storia che come ogni buon monster hunter ci siamo messi a farmare roba parlare con con sugi parlare con sugi chi è sugi qualico story collector cosa ok sugi new job cioè quindi è già see hunter wars ah questa vendi così sta vendi catti è proprio la vecchia cattara classica la vecchia cattara si palico skills palico fabrics palico spiu vabbè ma io direi che per ora te lo compri no a me non interessa palico fabrics più che altro che cos'è i vestiti ah no sono i questi prestigate posi ok comprendo se questo diventa un nostro gatto lo sai no palico poet diventa read palico family come lo leggi palico family read palico family che ce l'hanno l'inventario si palico tails accettate non niente qua non si capisce molto però tanto le quest go to cat lady ci volevo help you guida palico companion va bene ne devo assoldare uno nuovo proprio per tutorial quindi pensa un po' ho soldato uno nuovo oh forse finalmente posso dare oddio posso fare dell'equipaggiamento per questo gatto che sta a livello 22 ed è rimasto nudissimo ce l'hai nell'inventario una cosa da leggere salve salve ehi tu palico materials e po' print stamp vai vai sai devi prendere quello che ti dice lui ah perchè ho quittato e non me lo do più ora io parlo ah ok build the starter cut equipment ok allora e non faccio starter cut equipment mi compro roba avanzata roba che non posso prendere se non compro i cosi non lo so 10 di questi e via palico equipment dovrebbero averci ok allora compriamo si compriamo un'armatura compriamo la testa e compriamo un'arma compriamo una bella una bella massa compriamo 7 di questi va bene non li compriamo 7 di quelli eccoli qua comunque per chi ha giocato già a monster hunter alcune di queste cose sono molto intuitive e voilà ora come gliel'equipaggio mmm questa è una bella domanda allora dove me la ah ok me la date qua quindi cioè faccio così voilà gliel'equipaggiate a posto fatto la roba a livello 20 20 visto che il mio gatto è a livello 22 io ho preso quello vecchio cosa principale di questo gioco è il sistema sistema free to play da casse per ogni cosa loot box oramai tutti i giochi sono le loot box quante loot box tre almeno non andate pausial pausial e pausial immagino sì infatti ok tu non sei tu con chi dobbiamo parlare ma vediamo che questo c'è il palico training train il palico va bene vi andò la fattoria se non sbaglio poi essendo un MMO c'è tutte le quest allora tu addestrami il gatto scemo addestrami il gatto meditazione dov'è meditazione ok wow guardalo come medita in maniera molto zen e poi cade malamente ok ti ringrazio 30 minuti qui c'è anche qui c'è anche la componente qui c'è anche un po' la componente gestionale dei giochi tipo clash of clans tipo migliora il tuo villaggio spendendo money lo migliori in pochi minuti allora dobbiamo parlare a Lily andiamo a Lily ok a me serve ancora roba del castoro che ho quasi fatto ma a me serve un altro paio di cose quindi se ce lo andiamo a fare un attimo the face of fear chi c'è sta? no te prego non mi di non mi di che fear sono dei vespoid ti prego fammi prendere l'arco per sicurezza chi è spoid sono perché ho una palestra what? oh già è cambiato l'arco quindi non me l'ha più salvato giustamente andiamo a risalvare il set posso cambiare di nome? si facciamo tartarco tartarco ah perfetto questo lo rinominiamo come doppie lame perfetto che dobbiamo andare a fare in storia? no dobbiamo andare a fare il ragno quella la worst fear vabbò quando ci sei aspetta un attimo che devo mangiare cioè proprio una quest dice mangia quindi vabbè dammi questo via è l'animazione che cucino ogni volta ah no è schippabile ok spremi oh mio dio le texture di quelle bandiere oh mio dio oh mio dio ok che l'ho messo non ho messo la grafica tanto alta ma oh mio dio quelle texture puoi andare la cosa bella è che di questo gioco è che probabilmente meglio performi nella caccia come visto dai trofei più ricompense ti danno credo oh che sta succedendo oh mio dio non so se è tipo il mondo si è si è perduto per un attimo ok andiamo io ho dimenticato di portarmi le boccette anche solo per provarle dov'hai si sbagli sempre pure il ragno che armatura hai adesso sempre solo che non vale a te ti hanno dato una super armatura non è qui what aspetta aspetta forse ne ho 4 si infatti è qua oh wow un filmato ci siamo noi due dove il mio costume sta tipo impazzendo il mio costume sta impazzendo tipo vibra da solo oddio questa è una di quelle cose che tu non vuoi vedere in una bella grafica che fa ancora più schifo e lei scappa vabbè ci penso io salve eh lei scappa no lei non scappa però ci sei della davanti no invece sta facendo qualcosa aaaah sono stato investito perché quando ce la dovrebbe avere più con te che con me è cambiato armatura ah allora questo è problematico è molto problematico è molto problematico poi incredibilmente ok incredibilmente Stefano dai che volevi giocare col controller alla fine stai giocando con la tastiera pure te alla fine questo gioco è molto comodo da giocare pure con la tastiera ti abiti due secondi all'inizio alla fine è parecchio comodo salve ragnetto bam fine equipaggiamenti troppo potenti parte due che cazzo ti sorridi non hai fatto nulla berisai shield glow che cos'è è un oggetto raro ah no non l'ho mai tenuto questa volta che abbiamo fatto il ragno non me ne sono mai accorto quindi che cazzo c'ho quella 7 c'ho un nuovo messaggio anch'io adesso penso che me la danno anche a me l'armatura cos'è successo oddio Stefano all'ultimo mi si è buggato non avevo più l'arco in mano ma stavo ancora tendendo la freccia stavo tendendo la freccia da solo con le mani molto bello infatti ora la lemas dovrebbe stare al negozio aspetta un po' diamo questa ah aspetta per la mail è vero devo andare da il gatto delle mail forse mi hanno dato anche a me roba in questo gioco sanno che devi farmare quindi ti fanno i regalini i regalini di armi molto più potenti del tuo livello che probabilmente dopo te te toglieranno tutto abbastanza sicuro dunque purtroppamente purtroppamente lagga assai non sono belle ehi c'è un allegato no c'è un pezzo d'armatura c'era un pezzo d'armatura estetica wow togliamola va come ogni buon MMO ti metti i costumi che c'è ancora da provare non forget the feedback ok ehi tu ok l'altro sdratta solo di fetch quest qua si completano tipo subito mercante dov'è? va giù eccolo che cita che cita strano sud se non è strato potrebbe avere pure una bella storia ovviamente si schippa tutto e si va si va solo dai mostri se non fosse che alcune delle animazioni che hanno fatto gli cinesi siano un po' strane non è propriamente una scopiazzatura però come si dice asset riutilizzati allora ok battle in the sense mi sa andiamo affrontando un cephadrom come non è vero o un cephalos ancora meglio vediamo vai vai mettilo un gendrom non l'avrei mai detto cattura il mostro no grazie oh no abbiamo l'inutile cosa ridi che facce fate stop doing that ma gli si allunga il naso quando fa quella cosa quando fa su quelle monti ok sono manco perché ho preso le cody ma vabbè allora dove andiamo di bello probabile che ci sia anche un filmato quindi è la 5 oh non l'avevo letto aspetta allora che poi mi farà partire il filmato pure a me e te dovrei attendere e non mi attende oh no ecco oddio devo bere forse dire la cosa migliore di questo qua online è che ti puoi mettere i tasti rabbi per gli oggetti beh quanto vola lontano però quanto vola lontano però io ci arrivo così lontano ogni volta e vabbè ho fatto apposta allora niente non riesco a prenderlo che era sciuffato ovviamente beh oh oh salve what the fuck chi 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 cazzo eh cosa non so chi è questa no vabbè capa no pensavo facesse la cosa molto anime che se la rimetteva a posto il gendrome si divideva in due se infatti mi ha ammazzato noi questo amicadeo ciao si è offeso oh codagendrome proprio ciò che mi serviva per le armi paralisi che non faccio più che gioia eccolo mmm io sono troppo figo per voi ma posso dire è completamente diverso il disegno rispetto al suo aspetto ma pure i capelli devo quasi si se la bruna ce la bianchi va bene yeah let the voice of love take you ah yeah let entrambi i cento un'altra corona ancora ok no mi sa che la corona gendrome non è tanto rara mi dicono let the voice of love take you ah yeah allora te sempre ste armature sempre più amante ah no perché stai dentro tipo a sette altre persone ecco perché ti vedevo in super armature proprio this isn't even my final form ma che dobbiamo cacciare come solta la vedo io la sorpresa vedo io la sorpresa di chi dobbiamo cacciare però voglia di cambiare arma quindi andiamo con queste dopo che il gioco praticamente lagga fino quasi a morire riesce a cambiare equipaggiamento cerchiamo lo spadone just because allora la prossima quest di storia è un coso un vabbè hai capito un castoro ecco minimamente che deve andare ah vabbè deve andare a vedere gli equippi io devo ancora capire che cosa sia questa cosa del livello parte c'è anche la lore se non sbaglio ecosistem con K anche con K puoi vedere anche gli ecosistemi tipo il case brembar è molto debole in testa e nel corpo ed è debole a tutto però per fare un altro esempio il dove sta lo no il il cramine quello che avevamo affrontato prima molto debole in testa debole a tutto debole acqua e ghiaccio ah ma tu tieni dei punti per ogni challenge che riesci a fare non ho capito che ci fai con questi punti però vuoi fare lo sai che questo è esattamente ciò che ci sarà in Monster Hunter World solo che questi l'hanno preceduti cioè ci sta già qua la ricerca i punti deboli e tutto solo che qua non sai gli oggetti in effetti però sai i punti deboli ma non sai cosa troppino devo accendere la luce che qua sta iniziando a fare buio perché oramai fa buio praticamente alle 5 allora oh vi siete vi siete aggiornati mi dicono tu sei guarda posso dire posso dire una cosa era meglio l'armatore che avevi prima ragazzo sta nuova non è l'altra sembra Lay Queen ti giuro sono inguardabili lo so che mi servono le bevande calde gioco grazie ho preso mezza razione mi fa riaprire la cassa ok però qua non la dice la zona come fa a sapere da te sono giallo sta nelle zone gialle ovvio evidente ho aperto un po' troppa cosa non sono mi sa che non è mi sa che non c'è oh oh io vado nella 5 non è manco lì prova nella 3 va eh invece è lì oddio è veramente giallo ah questi asset riutilizzati qui mamma mia i danni addio è stato un piacere no in realtà la signorina ah è vero non carbare la signorina per favore oh wow ho preso il tail casing che mi sa che era l'oggetto raro sei ma a te serviva il tail casing normale eh si yellow yellow temperance yellow temperance dio quanti piccoli mi sono rimasti mi sa che li devo ricomprare mi sono rimasti 5 sai cosa non vedo in queste mappe praticamente ma gli insetti i minerali li vedo ovunque ho gli insetti e non ne vedo mezzo livello 85 quanto si livella veloce in questo gioco dio solo lo sa abbiamo ricevuto una cassa per il livello probabilmente yes livello 85 quante robe cosa amico leo parli ah e questa che cazzo è ok ma leo che con leo non ci parli ah si ah puoi fare roba pure mentre stai qua adesso aspetta che dobbiamo fare ah read rumor oh luce luce non impazzire come al solito grazie no si dicono queste cose su stream esterellian che cos'è traces of the holy light un drago molto elusivo che andiamo a fa oh si guarda che andiamo a fa esterellian è fichissimo bisogno di un'altra arma tipo una delle cose più fighe che abbia mai visto una bella lancia fucile why not mangiamo pure anzi no va è de basso rango sti cazzi ah quando sei pronto c'ho di nuovo nell'inventario oh donna che bella alcune di queste armi come si chiama derp senpai in questa epoca non mi sarei mai aspettato di vederti main gaytana eh ma perchè l'unica armi buona che c'ho non è che voglio non esistono armi buone esiste solo skill vabbè armi buone mi fanno trovare caccia di me guarda 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 chi c'è ah si ce l'è nell'inventario quando devi leggere roba ce l'è sempre nell'inventario e ma devi riparla con la diva questo c'è ah no mi pareva sonic armatura di sonic have to go relatively quick di sonic Io ho visto l'armatura di questa affare, è fighissima. Let's do it. Let's do him. Head to zone 6. Subito. Oh, abbiamo gente nuova adesso. Ecco, lei è abbastanza fedele nella versione fumettosa. Ah, ma c'è solo lei che ci accompagna. Ma non ha manco un'arma. È tipo il fabbro, quindi. Questa è una nuova mappa. Guarda lui. Ma si salta? No. Ah, sì, si salta. Un minimo. Molto più piccola di quello che pensassi. Ma io vedo tracce di roba. Ah, no, è solo acqua. Oh, salve. Che succede qui? Cos'è? What? Oh, no. Cos'è? Non mi dico che sto coso controlla Vespoid. No, please. Io non mi avvicinerei a uno di questi insetti. Però vabbè. Cioè, te vai e tocca. Non lo so. È un Vespoid. È un Vespoid. È un Vespoid. No, è vero. Non sono Vespoid. Però... Non rispettano le donne. Non rispettano le donne. Non rispettano le donne. Mi devo far vedere noi il respect. Vai alla zona 8. Ok. E rispetti le donne. Mado parte 2. Dio, quanto sono brutto, però. È la culla del caos? Eh... Eh... Là c'è una coda. Però noi ignoriamo. Oh! Cos'è stato? NANI! NANI! Eccolo! Dov'è? Dov'è? Buonasera! Salve! What? Sono tipo le sue scaglie. Almeno non vola. Credo. Salve, buongiorno. Eccoci. Ok, ma è più piccolo di quel che sei. Io vorrei tanto tagliare la coda. Zeta. Che vuole con Zeta? What? Oh! Ha lasciato dello schifo per terra. Spider... Ah no, vabbè. T'ha menato. Non ho fatto niente. È caso? Sì. Grazie alla mia armatura. Armatura molto pompata. A me gli rimbalza la roba. Beh no. Guarda i miei spoide che rompono le balle. Meno male che non aveva le ali. Ma queste parano molto... Eh? Stavo tagliando la coda. Nice. Dicevo. Meno male che non aveva le ali. Ha cresciuto. Ti ho detto forse. Beh non ti dispiace se... No, gli è dispiaciuto molto. Gli è dispiaciuto molto. Questo è... Questo è perché non rispetti le donne. Oh Gesù! Ah no, ma solo... Mi ha investito senza farmi danno. Strana questa cosa. Ok... Purtro. 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 Anzi meglio il corno! Purtro. Holy shit. Sta buono Stai buono Le ali What? Ma non è morto Ah è scappato Oh no La coda la coda la coda Mancano 3 secondi No No Vabbè qualcosa Ah me l'ha data tra le rotture Ok Per fortuna Quindi non lo dovevamo manco uccidere Però l'abbiamo menato male Però anche lui menava Io perché c'ho l'armatura Oh no A me faceva abbastanza male Premi H Cosa? Ah oddio Se ti fai upgrade Poi avete tutto il ramo De tutte le armi Oh Gesù Premi H Vai su upgrades Lo guardo Oh mio dio Quante varianti ci sono E vabbè E niente Allora tipa Qua Siamo menati Però io lo voglio andare a ammazzare Qualcosa Power awakening Io sono diventato il leader degli apprentice hunter Ma voglia Che sono il leader degli apprentice hunter Ma voi seguite me All'uridi Dobbiamo addestrarci Ok Sì in effetti Noi siamo già belli pronti Quindi non capisco Dobbiamo trovare No aspetta Pet training Devo trovare Jerry Jerry Sì sì Tutta secondaria Però l'ho tutte clearate Quindi Cioè le vado a consegnare Musiche non devono vivere In questa lunghezza L'esistenza è un paio Non tu Tu Salve To Ciao Jerry Ciao Jerry Un inventore What is this? Oh Ammunition recipes Ammunition recipes Abbiamo di nuovo arma Andiamo Un po' di Asciagangiante Asciagangiante Ah me ne dovrebbe da pure a me Si Però ma ti da tutto O solo un pezzo No no solo un pezzo Ah ok Ah ok Andate dall'armatura Vabbè meglio di niente Deve da per entrambi pure Asciagangiante Asciaggere fare fuori. Aspetta un attimo. Cosa è sto roba? Ah, abbiamo un titolo sbloccabile col libro. The Witness of History. Vediamo come si mettevano i titoli. Eccolo, title. Sono un historian. Wow. Ok, vai. E io ho sbloccato da un libro. Ah, questo secondo era? No, la tipa ti dava con il libro. Boh, vabbè, non lo so. What? Ah, ho capito una cosa, stai, comunque. Probabilmente. E il coso dell'equipaggiamento è che potevi avere solo tre linee. Probabilmente è basato al livello. Più sali di livello, più slot di equipaggiamento di danno. La paralisi, il veleno, lo slip, il macchiato, il rispetto per le donne. Fammi uno macchiato. Fammi uno macchiato, troppo sicchietta. Eh, no, gli piaceva. Vabbè, non essere disperato, non ti preoccupare. Oh, no. Loro seguono me. Perché seguono me? Ah, perché non siamo nell'area 1. Stavo che con quella casa andassi in giro invece. Oh mio Dio, quanti sono? Perché questo cucina tutto è bello tranquillo. Ma che c... Che cos'è? Oddio, no! Oh no, si finge morto! Cosa sto vedendo? No, però uno di quelli che è scappato sta qua. Ah, occhio a non farti... non mi ricordo cosa usava che ti rubava un oggetto. Facciamolo avvicinare. Dov'hai Dio? è impazzito. E vabbè, cioè, da un cambio d'aria all'altro. Come funziona sta cosa? vabbè, l'ho mancato. Che versi fa? Io mi allontanerei. Faccio questo. L'ho mancato mentre si stava spegnendo. Ma sei morto davvero, mio Dudo. Questi bastardi che si fingono morti e ti fanno una fracca di danni. Dov'è finito il tipo molto... molto figo. Non è qui. Ah no, ecco qua. No, quelli sono dei funghi. Dov'è finito. Una prossima area, forse. assolutamente no. Poi ci stanno i solidi minerali. Dragonite, bla bla bla. Yey. Ehi. Ehi. Bello. Molto bello sto clare che gli ficco. La cosa non superi il culo, praticamente. Ho fatto la supposta. Una bella supposta. Io accendo un attimo il condizionatore. Che sta andando un po' freddo. Quindi ci riscaldiamo un po'. Eh, abbiamo sistemato qualcosa. Eri lì con noi, eh. Oh, salve. Eri lì. Eri. 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 Iri. C'è il palco. Eri. Dobbiamo andare a fare. Molto curioso. Dobbiamo portare un bel corno stavolta. Ti vado un attimo a rispettare le donne. Che vuol dire? Vado un attimo a rispettare. Io non sono da prendere la casella. Ah, ok. Ah, che era una. Guardiamole queste che ci rimangono da fare. Register. No grazie. No thank you. Per ciò che farò è andare dal fabbro. Anzi scusa dalla fattoria. Aspetta un attimo che ando un secondo alla fattoria. Voglio un attimo potenziare la cosa di pesca. Vedere. Perché dovrei completare un'altra quest con questa cosa di pesca. quindi... Upgrade. E via. Yeee. Ora possiamo pescare. Non ho mai pescato in questo gioco mai. libro. Proviamo. Proviamo. Oh no. Grazie a Dio. Tiriamo sulla rete piena di pesce e basta. Bene così. Ok. Puoi partire. Ehm. Che andiamo a fare? Che è sta roba? Va bene. Va bene. Non sappiamo cosa fare ma va bene. Eccola. Oddio è quella lì l'ervatura. Guarda che figa. Delle Stellar. Ma la stai vedendo pure te sì? Sì sì sì. Fichissima. Eh. Eh. Go to era one and get us with. Comunque. Eh. Vediamo se... Se dopo questa andiamo a cercare la sbloccata come caccia normale. Eh sì. Come il presentimento che le missioni di raccoltare la Sarlè non finiscono mai bene. No non finiscono mai bene. Soprattutto quando sono missioni che ti sembrano troppo facili. Sì. 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 Sono segnate. Sì. Sono segnate. Sì. Io ci sto buffando. Io ci sto buffando giusto per. Sì. Beh là c'è un ermita un piccolo. Sì. 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 Eh. Dobbiamo consegnarli questi saur fruit. Mi sospettisce molto Eh vabbè lo faccio io E gli ultimi li prendo io No no credo tu non ne possa poterlo tenere Top di due No l'ho preso Eh È più di tre Eh più di tre c'hanno due C'hanno tre Boh Come li hai già consegnati La cassa qua Ah c'è la cassa rossa subito là sotto Nice Fine Voilà Wow Andata meglio delle aspettazioni Andata molto meglio Dell'aspettazione Guarda siamo all'86 Va bene Ah probabilmente Questa cassa è per farti vedere Ehi Sai che se te fai roba Puoi andare Essenzialmente a consegnare A consegnare Roba bonus Per punti cacca Probabilmente Oddio Tornandietro Aspè Mi devo rifare tutto Sti caricamenti No Era a basso rango Quel coso Noi ce l'abbiamo a basso Abbiamo un Yangaruga però A basso Eh dico Yangaruga ci smonta Te lo dico Chiaro e tondo C'è io ancora Un'armatura Tutto Eh Ah ci sta il ghost Il ghost Quale cazzo si chiama Il Il castoro ghost Sì il castoro ghost Che è l'ultima variante Scusate Scusate Come vedete a me se Tra basso rango Tra basso i ranghi Non lo trovo Vabbè Crede che si sbloccherà più avanti Quella magari non è nemmeno la sua forma finale Not even his final form Avanti con the storyline Così Chiamoccelo farmi Yangaruga Carmine di ghiaccio What? Ah Hermitour Crusade Bullfango Crusade Quelle sono quelle che capitano Ce ne ammazzi quanti ne vuoi Il Crusade Puoi cambiare area al gioco Grazie Il Crusader Non è Non è Renard Tipo Please Please Don't Cosa? Cosa è una pera Non è una coccina Non scrivere cosa sia Dov'è? Ma è di storia No sta qua Vieni dritto per dritto Lo vedi Eh aspa Lo sto io No che se ne va però Aspetta arrivo Come? Guarda che sta andando Ah si lo vedo lo vedo È una coccinellina What the fuck Dove vai di qua? Oh Oh Guild registration Oh 20.000 15 di qualcosa 20.000 di qualcosa Buono Non sto capendo Non sto capendo Che ne so io Per me non è il momento Di creare una cilda La banda Bassotti Della Magliana Il Bangla Della Magliana Questa volta Good boy Dimmi quando l'hai creata Poi Guild No Per ora Continuo Non so se ci dà bonus No Non credo di no Non lo controllo Pregate una cilda I cinesi Ebbè Fammi indovinare Dobbiamo leggere un libro? Non l'avrei mai detto Invece no Non devo leggere nessun libro Dobbiamo ritrovare Raudon La montagna Molto montagna Dai andiamo avanti Così Cacciamo Cacciamo un altro po' Sì almeno ci portiamo Un pari Un minimo Oh Ridi Parla a Remi Ma questo qua è inutile Io non gli voglio parlare No È un inutile Balestriere Cioè Ok Dobbiamo fare un'avventura Quale? Andiamo un po' Dobbiamo affrontare Dobbiamo affrontare un Kunga Lala No Non è vero Sì Un Kunga Lala Nice Ma si Andiamo col corno Dai Aspettando Stefanus Stefanus Ah ma perché è sparita Lily Non mi dica La rubata Che cos'è sta roba? Ah ok Spadone Fai colpo singolo Martello Fai colpo stordente Cioè scusa Colpo stordente Colpo tagliante L'ultimo sia colpo perforante Sai che Comunque mi sa che armi tipo La balestra pesante Ne esistono proprio Cioè mi sa che l'unica balestra che c'è È quella leggera Ricordati i deodoranti Perché pulserai Pulserai molto Filmato? Kunga Lala Oh salve Sì Dov'è? Non lo so Nel frattempo ci sto baffando Ok Ci ho baffato giusto un tempo Salve Seguimi Andiamo Dove andiamo? Ah ma saliamo sopra Oh Combattiamo sopra la nave Ma che figo Madonna La scalata De Monster Hunter Unite Come si è teleportata Qua sopra Eh vabbè Questo mi ricorda Questa Mi ricorda quella volta del Molto bello Molto bello devo dire Chi è che era quel pancino? Chi è che era quel bel pancino? Arrabbiato Arrabbiato No lo scorreggio Ok Congratulazioni Sei un Hunter Allora E' Già Allora LOL Badiamo al fatto che Questo affare ha già vinto A modo solo buttandoti giù ben tre volte Ah Oddio c'hai due stelline accanto al nome Pure io me sa Come no Hai un Un coso arcobaleno What Come fate la foto Se stai fermo te faccio la foto No vabbè non importa No vedi ce l'ho due stelline sotto Me lo vedo Come lo vedi E con la P me lo vedo Ah sono apparte adesso Prima non ci stavano Wow bello questa immagine in primo piano di un fungo Bellissima Bright hair mi sa che è raro Sì infatti Chissà se è come l'altro che i materiali fino al raro 5 erano passabili Bisogna Bisogna Leggerla questa Leggerla questa Sì le cronache di qualcuno Allora Ehi E' tornata Non si è venuto manco con noi Non ci manco È stato bisogno del tuo aiuto Vedi Coglione Spero Christian se lo scarichi presto Perché a questo punto arriviamo a rango G Tipo Eh ma se te non gli iscrivi Non credo No E lui ha detto Mo lo scarico Però sai che Un altro Gipceros Oh boy Cambiamo un po' Spada e scudo Spada e scudo Vai Un po' lo spada e scudo Ma questo è il ripaggimento completo Te c'è un simboletto accanto HR4 Ah te sei I rank 4 Eppure io allora Nice Abbiamo Oddio Quindi scusa Quelli che sono I rank 500 Passa Ah non lo so io Che belle melone Oh no Siamo solo con lui No Ridammi Lily Almeno lei è utile a qualcosa Anche se è solo a farsi rapire Dalle scimmie Almeno lì Con spada e scudo Un minimo Sa fare qualcosa Sempre questa Oddio che dobbiamo consegnare Raccogli cose Aspetta Shiny objects Gear up and Hunt this thief down Dobbiamo ammazzare un Gipceros Oh Dove l'hai visto Ah C'è Ci sono i ping Sulla mappa Eh si Che non mi dirà Qua Siamo andando addosso Oh Ok Però mi sa che c'è da ammazzarlo Proprio il Gipceros What is this No 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 Cosa E niente Granchietto rompi i coglioni Oh Sta buono E ancora vivo Quanto è resistente sto granchietto Non segui le luci Siamo a 6 Oh Oh è spuntato Salve Oh Buono Buono Mio Dio Quanto mi ha tolto Stai buono Per favore Stai buono Non sta buono Io sto per morire Non 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 Ah, lo posso parare, stronzo. Eviti di stare fuori aria, però, per favore. Sei poisoned! Facca, facca, facca! No, per favore! Dio santo. Aspettino di scappare, Dio mio! No, vabbè, sono paralizzato. Basta! Sto impazzendo. Sop anger, pro! Sopener! 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 salve cosa sta facendo mi hai appena abbandonato per andare a consegnare i cosi luminosi mer no oramai sta cosa lo ammazziamo mi dispiace stefano si ammazzano quelli meglio si fa passare liscia per tutti gli oggetti che ti fanno usare io so che non devi usare io non so da me di niente tu sei una mega pozione ti odio alquanto ogni tanto non so da che gioco mi viene la final fantasy leader tipo ripara la roba ho letto la descrizione della quest allenati finché non raggiungi il livello 18 quanto stiamo indietro no quanto stiamo indietro con la quest principale un pochino eh un pochino che andiamo a fare adesso capitolo 4 ah quindi nuova ricompensa con galala band e con galala belt ah ora dobbiamo letteralmente ammazzare un altro con galala nice let's go sei rimesso il costume forse dovrei comprare qualcosa anch'io vado a vedere allo shop è shoppato con le monete d'oro o con le monete normali? un attimo anch'io dove ci sta no queste sono le activities la zona privilegiata ma che è sta cosa? vabbè lo store dov'è? shop eccolo wow army melee lens katana wow vuoi comprare la roba come un gift una lancia sword and shield bella roba ho capito come si comprano call sono preve collaboration key game member master hunter online blue un'ambulanza vabbè quando vuoi vai se volessi comprare una cosa simile quanto ah no ok costa gemme assolutamente no però c'era un altro shop mi ricordo come l'hai aperto dell'altro shop oh wow c'è pure una lista di achievement monster poison monster paralysis monster sleep grazie questo l'avevo capito oh no c'è di nuovo lui vero ah no ok perché dobbiamo questo lo posso dare dovere io perché dobbiamo andare a ricacciare quella scimmia che mi ha rapito e vabbè dai facciamoci coraggio andiamolo a prendere anche se mi ha molto imbarazzato il fatto che mi stesse per tirare la cacca addosso anzi scordati quando ho detto che mi ha tirato la cacca addosso sul serio scordate ok hello ok quanto è con la lala è il cinese esatto e vabbè tutte e due lo pitti te la nave dov'è area 2 why are you running why are you running sicuro dovremmo andare vedo un'ombra molto sospetta ah non c'è towo vediamo nella 3 ma che sta dentro perché a me fa il salto da paura no no il salto da paura lo fai sempre eccolo ah no questo è un congalino lascio stare è già finita posso un congalino questo però siamo vicini probabilmente si sale congalino oh post insetti ho visto un plenamente a caso nata dove oh mi dice che sta nella 7 rito troppo sta manco nella 7 dove è finito aspetta aspetta mi viene dire una cosa cosa nella 1 questa è la 1 che si sarà spostato oh wow l'ho già paralizzato voglio quel fungo dammi il fungo anzi scusa gli voglio rompere la griniera caduto e gli si è rotta post direttamente come lui non si avvelena comunque oh salve post paralizzato di nuovo dammi il tuo fungo oppure no vuoi morire prima sei ancora imbarazzina o sei imbarazzata che ti sei fatta rapire da una scimmia così debole che ti sei fatta Yoshi oh mio dio bel primo piano del suo culo fantastico bellissimo primo piano del suo culo tra il list di ciò che non volevo vedere credo che quella sta nelle prime dai abbiamo battuto pure un congalala adesso che dobbiamo fare quant'altra roba è notato che non stiamo salendo più per il semplice fatto che le missioni qua di serie ci danno pochissima esperienza voilà ok andiamo andiamo veloci 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 altre perché perché no così entrano le people pensando che siamo asseranate l'online nuovo eh proficient girl mind no grazie guarda non ci tengo a ricevere questo titolo però grazie grazie per l'offerta grazie per l'offerta come si apre il menu dei palico ecco no visto che c'è te c'è il morale per terra io no è l'altro cat portiamo l'altro portiamo l'altro fuori per un po' cosa? vabbè quindi il titolo dà delle statistiche ok test flight cosa? cosa vuole fare? io non so cosa vuole fare però andiamo però facciamolo aspetta io vorrei graffare quello spagone mmm talmente tanta roba eh ma pacca quali sono le le armi che sono a nostra portata nella nostra portata sono quelle con quei mostri di quad e storia muoiono pochissimo e ti dico lo uso un po' io una katana va da un po' che non la uso devo equipare le mosse però mi sa no già ho equipato tutte e tre post cos'è questo? ma è nubis ma che figo quindi queste armi sono una figata allucinante quindi sei te che stai guardando lo stream adesso ma c'è qua dietro no niente si la interna che è si la itenna la itenna boh che dobbiamo fare oh dobbiamo fare un carmine no un cramine e non so cosa sia no dico quando lo troviamo dico ah itenna light tenna boh è light tenna ho capito qua non lo vedo qua non lo vedo sta al cramine soltanto light tenna no non lo vedo di che cosa sia vabbè lo sbloccheremo andiamo tra le bounty magari sta shogun shenatower più da mermitower sulle bounty gomenna sorry che c'ho di roba nuova l'ho vista sta roba inventario grazie ho detto dobbiamo affrontare quel robo e che palle quella specie di cut che sparava un po' di veleno ogni tanto di roba verde tipo melma è uno spadone quello che bello che bello che bella c'è la quest prima che ci ha detto senti livello un po' fino al livello 18 poi torna si si non se non stessimo già al 90 e passa no in realtà non so se siamo al 90 87 tipo what stiamo volando e tipo non capisco le prospettive sono io la mia prospettiva è sott'acqua infatti ah ok stiamo volando e non stiamo volando noi what the fuck ma che cazzo ok cioè me lo dai pure a me stagliante però poi spero oddio si si ti prego si mangiate al volo che bello il gozze oddio al volo una palla di merda al volo è morto si è impalato è dead è stecchino eh vabbè succede succede sono cose che accadono ma dobbiamo andare a recuperare il cadavere andiamo i cadavere non si recuperano da soli ti facciamo una cosa tu pigli sempre la roba a destra e pigli sempre la roba a sinistra i due così regoliamo vai alla zona 7 la zona 7 a rispettare le donne tutti tutti quelli che mai mi seguiranno mai italian spider man andatelo subito a vedere uno dei migliori film uno dei migliori film della stella del cinema e ti insegna a rispettare le donne dove sta eccolo eccolo lì morto stecchito stai bene vivo pare essere vivo mi aspetta che arrivi lei e faccia il discorsetto si oh si è ancora vivo wow pure lei è sorpresa tipo ma non è morto oh salve vabbè tu rimani qua a fare il cactus eh addirittura oh vai che fai che combini che combini ragazzi soria no ho cambiato aria ho cambiato perché ho cambiato aria odio che non si cambi aria non vedo l'ora di Monster Hunter World che non si cambia più aria si è arrabbiato tanto tra poco sarà morto sto mancando di poco tutto qual'è il contrattacco ah ok ho capito già quello è il contrattacco a posto hai cambiato aria hai cambiato aria pure te no ti vedo fermo ah no ok stai scappando in giro questa è la counter immagino la seconda super mossa falla falla colpisci mi eh niente non mi colpisci io devo curarmi un attimo non ho notato che c'è tipo pochissima oh what no vabbè non ho capito oddio che schifo che spara le palle di schifo no l'hai l'hai lisciato l'hai lisciato malamente casino non si non capisco nulla aumenta l'attacco esplodi insieme a tutta la melma ah sto andando a fuoco ecco perché no ok adesso io lo posso dire attaccami yes l'arma mi si è rotta male help smettila di tirarmi aria smettila di tirarmi sabbia negli occhi per favore questo raccoglie merda e la lancio ovunque però non vale che te c'hai la super armatura io ho sta armatura scrausa ancora smetti di lanciare merda scusa io sto perdendo quantitativo di vita industriale ogni tanto ah appunto divora è mancato quando muore quest'affare se ne va no non è vero ma certo dovrebbero avere entrambi i tasti capiscimi au dio mio no non la voglio la tua cacchetta grazie grazie L'hai confuso Mamma mia Con l'ultima infilzata E va a morire Oh, questo è stato tosto Oh, green juice è proprio ciò che mi serve Per la cosa Voglio farmi un'arma sua, se non sbaglio Mi ricordo quale arma, ma un'arma Forse lo spadone Sta cosa è bellissima Fai tipo il fake out Va all'indietro e poi Pam Nice Oh Yo Guarda che bello C'è Proprio l'infilzata finale Nice Ci ha dato niente Però va bene Va bene così Vediamo un attimo Dov'è la freccia Allora Un attimo Una cosa E via A posto Depositiamo roba Ancora non basta la roba che abbiamo Dovremo Rifarlo Poi eventualmente lo rifaremo Che mostro facciamo Vediamo un po' Un bel Castorone Vabbè Che È normale Sembrerebbe A me pare normale Però Vabbè Anzi Fai un po' Di lancia Va Facciamo un po' Di lancia Dunque in effetti Hai ragione Dalla prossima Modifico lo stream E metto Semplicemente Monster Hunter Online Oh Sei di nuovo Harley Quinn Che fanno Io te l'avevo detto Mi piace sta cosa che dice ogni tanto Ehi Guarda che non puoi depositare oggetti Nella cassa oggetti Ho detto Sto cliccando destro Per prenderli gli oggetti Mica Oh No Aspetta Aspetta Non sapevo che ci fossero i casi Ci stanno un paio di insetti Li voglio prendere Quindi li prendo mai Prendo solo sempre minerali Cioè Vabbè I luoghi dove prendere gli insetti Sono tipo invisibili Una cosa allucinata Hai trovato Io ci sto combattendo Non è vero Qua Ma di che Ma non è vero Non battendo nulla Stefano No Io sto a me Non vedo nulla Non c'è nulla What the fuck Mamma mia Mamma mia Che mega prank Mi sembrava strano Non può essere buggato Fino a sto punto Eccolo Eh Subito così Eh Subito così Questo dovrei liberare La nostra amica Peccato che l'hai mancato Cristo santo I danni Che Codiamo? Codiamo? Che è? E' andato sotto terra Che è tutto sto scivolame? E' andato sotto terra Ma che vuol dire? E' andato sotto terra Ah, gempray per favore Super difesa Attaccami Mi ha lisciato Mi ha preso quando è finita Io odio il mondo Odio il mondo quando ti da queste mosse che sono counter Smettila di scavare Stop Devo parare, vero? Sì Sì Certo Ma certo, pussycat Un po' tardi, gatto Oh Cos'è? Ossa Eh, non sempre comodo Qua sono effettivamente utili E mi raccoglie qualcosa qua Vediamo se da roba utile o se No, erba Non da niente di utile Oh In mente siamo saliti di livello Evviva Evviva Salve Mi depositare tutta la roba Magari facciamo un upgrade alla cassa Ah no Adesso abbiamo già fatto Ma chi siete? Talk to Revy Ciri map Va bene Ehi Revy Smetti di essere un coglione Andiamo A posto No Dice La quest diceva Vai da Revy L'inutile ragazzino E digli che andrà tutto bene Rincuoralo Ho detto Revy Smetti di fare il coglione Vieni Su Basta fare la pussycat La pussycat Già il fatto Direi Già il fatto che sei vivo Dopo essere atterrato In quel modo E essere rimasto impalato Su un cactus È un miracolo Quindi Puoi rifare tutto Nella vita Sopravvivendo Quello Allora Vediamo che si può Upgradare Doppie lame Potrei Potrei renderle pure Di duono Con un bel chezzo Oppure potrei fare queste Che sono ancora più fighe Cos'è il Bashimu Very interesting Però non so cosa sia un Bashimu Quindi No grazie Wow Cioè no Wow Wow Veramente Ah giusto Io volevo farò uno spadone Ti ricorda qual era? Per se era questo No Eccolo Credo No Non era manco questo Dove sta? E' questo? No No Questo è quello del bull drum Yankotku Oh maledizione Non la trovo Eri andiamo All'inizio Me lo sono immaginato Che si poteva fare Questa Sto spadone O Forse era qualcos'altro Può essere che forse qualcos'altro Non lo so Il fatto che non siano in ordine Mi triggerà assai All'inizio Di 5 materiali di mostri Vorrei farmi un'armatura Allora Oh mio dio Quella del carmine Orribile Però quella del Quella del Cosa giallo Si può fare Volendo 13 di No Da 24 Di difesa Eh Eh Direi Direi Facciamo questa Facciamo il castorone d'oro E' però la dobbiamo fare da soli Ah no Ok Va bene Aspetta però là Un pezzo d'armatura Me l'aveva già dato Del coso giallo Se non sbaglio Si Eccolo qua No Si Però range Perché fa così schifo No Ma dato La cosa di quello giallo Ma fa cagare Perché No Perché l'armatura Eh no È così Ma sa Ah no Difesa 4 No È giusto Ma non detto Raro 2 Mmm Ah no Ecco perché Questa Che è quella D'alto rango Cosa di Alto rango Giallo Eh Quella del Benità D'alto rango Eh io direi che dobbiamo Iniziare a pensare Al motore D'alto rango Se è quella Del bulldrom Il bulldrom E' figa Veramente Figa Solo che serve Testa bulldrom Che è Una cosa più unica Che rara Credo Ah ma certo Impara Le gilde Impara Come creare Le gilde Hmm oh ah c'è quando le oddio quando le conosci le cose quando le conosci le ricette dei gioiellini da attaccare nell'arma le devi comprare oh boy questo è un problema le luci dice hi nice armor do you want to join an english guild dice questo che dici se un'immanagilda preesistente eh non lo so però qua c'è una gilda inglese 11 ore un'immanagilda Grazie a tutti. Andiamo un po'. Dice che questi sono un 2. Questa è i rank 10. Andiamo un po' la sua arma. Bella, pure paralisi. Che hai fatto? Oh, qua dice fanno... Cioè, sta gilda parlano solo inglese, dice puoi comprare roba esclusiva. Cioè, non lo so, dopo sta caccia ci penso. Molto arrabbiato. Molto calmo subito dopo. Voilà. Ci sarà qualcuno qua? Qualche mostro? Mmm. Mmm. Wow, c'è già stato paralizzato. Nice job, mio dudo. No, non li posso carbare. Boh, vabbè. Boh, vabbè. No, non li ho anche comprati. No, non li ho anche comprati. Ok. Vediamo che il carbaricefalo spettrae le parti. Eccolo infatti. Ti sei fatto un'altra armatura d'aspetto o è armatura funzionale questa? Bene, e se questi si possono unire al party, andiamoli al party. Se mi dai il coso lo provo a invitare, mi dai gli poteri. No, non jam party. Vai, tu tu parti. Oh wow, 935. Ehi. Non lo so. Quindi facciamo solo roba secondaria. Boh, vabbè. Oh, strada principale non obbligatoria. Anzi, ti leggerai già l'armatura d'altro rango, no? E io ho ancora la roba di basso rango. Infatti volevo vedere se possiamo fare qualcosa. Need to upgrade a set of future armor when you can. Eh, eh, grazie. La devo prendere? L'armatura di alto rango? Mio ragazzo. Mio dudo. Questa credo. Sì. Raro 4. Facciamo il tracking di questa cosa. Molto comodo. E via. Pick your quest we will follow. Ok. Ci abbiamo il coso d'oro, spero. Sì. Ecco il coso d'oro. Il Cesar d'oro lì. Per canto. Sì, eccolo. Eccolo qua. E io direi come arma... Facciamo le doppie lame. Dove sono? Le sono perse, eccolo. Siete tutti? Boh. Let's do it. Vediamo in 4 se regge o se lagga a non finire. Spero regga. Eh, ma si pia solo uno di tutto. Ah, ma questi vanno... Questi vanno dritti e diretti a vincere. Perché sono dei winners. Secondo te le rispettano le donne? Ma che martello... A parte... Questo diceva tipo... Ah, c'ho l'arma brutta. Porca vacca. È fighissima l'arma che c'è. Se è questo morire tipo all'istante, lo sai. Oppure si arrabbia. Che c'è la nozione. Hit the shit, martello dude. Come lo hai evitato? Come lo hai evitato? Mamma mia. E niente, mi dicono che è questo tipo molto dead. Non è che te l'ha lanciato via, se l'ha stordito. Mi devo godare l'arma. Attendete. Come non ho questo item? Oh no, non ho preso le coti. Vabbè, fate voi ragazzi. Io credo in voi. Io credo... Madonna. Sto mancando. Wow. Ti do un rumore molto sospetto. Eh, vabbè, doppie cose paralisi. Doppiarmi paralisi. Tanta roba. Oppi. No, come il guscio insetto. Dammi il miele. Ma dammi il miele, dai! Oh. Grazie a Dio. No, non ho. No, non ho. No, non ho. Non hai anche altri paesi inglesi, non puoi usare. No, non lo so. Non lo so Cioè per me se possiamo unire Cioè quindi te ancora la vuoi aspettare Vabbè magari si unisce pure lui a questa gilda qua Oh per me se potremmo pure unire Però non ho idea di come ci si unisca Che ho detto? The only thing you need to do is daily quest But it completes when you enhance normally Ah vabbè ma non so Fa pure le weekly quindi C'è un problema Eh? Eh le daily ci stanno Aspetta eh Allora Tailcating Ah ok aspetta 4 di 5 4 di 5 0 di 1 0 di 1 Vabbè ci ha invitato English Hunter Guild Accetta Si è venito? Le gathering materials one hunt One game with someone of the guild Ok Call Ho scritto Bello Ehm Kiss says something Parla Non rimanere Non rimanere in disparte Something Ah 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 Tu sei divertente Stefano Dio mio Mamma mia Andiamo se possiamo fare l'upgrade a qualcosa Eh sta avanti Perché ce ne sono due varianti Quella di basso e quella di alto Spermolo vado a vedere Beh c'è scritto eh Contrario delle armi queste sono scritte Pagina 5 Si è questa qua Raro 4 Ero già purata la 10 Forse c'è della Alla 10 ce n'è un'altra Tipo Oh mio dio ci sta davvero Ah no è del Tigre Che cosa è la mia difesa Non ho difesa sugli elementi Eh vabbè Mi fa piacere A me serve una cosa Però Just follow me It will take 5 minutes max To the next area Ok Dove Da dove dove Non lo so Alla vicino al fabbro Sto arrivando a fare una cosa De caricamento Quindi non posso scrivere Mi è farsa la tua cosa Mmm Only for Aspetta Forg No or Boh Ah ma è un cambio d'aria qua dentro Holy shit Sembrava Sembrava sparito Oh Ma quella è una gigantesca Super Mario Mongolfiera Guild Ma guardalo Guild Merchant Quest Girl Ah ma c'hai pure quest Della Gilda Mestri Ma che c'hai Ma cos'è questo post Questo è un posto magico Hunting activity helper Not talk to everyone Incomplete as you hunt Ok Cos'è questo How to use contribution By completing the Ah perché c'hai le daily Della Gid Ask me if you have a question They are daily quest So if you can When you go check Use them Ok Guild Jewel Shop Oh Capisco Guild Costumes No vabbè C'è i costumini Della Gilda Che servono i coin Della Gilda White Green Non sono niente male Empresi G20 members online Ma siamo pochissimi Ma siamo pochissimi Siamo tipo niente Guild random shop Che cos'è Whetstone Antidodo Ah vabbè Questa roba Upgrade the trade Cioè Sorry Lago permission E vabbè Guild unlock Short Sorry Lago permission E vabbè Aspetta Cosa Buy one new player paper Ok E dov'è Ah new player paper Ho comprata Non so a che serve Ma l'ho comprata Limited quest Oddio ma c'è tutta Sta nuova moneta Guild trainer Cosa sono Upgrade institute Learn guild skills Cosa Ah no Ovviamente About your salary Cosa Ci abbiamo Ci danno la paga Settimanale Non funziona Guild logo Guild stipend Da vabbè Questo è il nostro logo Capito Beh Figo Learn about the recruit Oh mio dio Quanta roba Niente Tutta sta roba Non si può fare L'upgrade Treasury Vabbè Queste sono le risorse Ah beh Questa è la cassa Però è la cassa Pure del La cassa del coso The star The hunting party Oh I've reduced the third day And saturday Is the other For hunting party Each person Can complete One task Every day Rewards are Sunday morning If all the score Is 12 points And you need to score Next week Receive a golden name And I think The boost Will be a bit What? Figo Mazza This is a molto Figo Come and go As Yeah but E vabbè Group server Ma che è? Ma quanta roba è? Aiuto Troppa roba insieme Troppa roba Ok Hunting field Oh mio dio Dogfight Monster huntathon Oh No grazie Però ora va bene così Se c'è una cosa C'è una Sì Dove sta? Neckless Un pacchetto dei necklace Ehi That's pretty good 100 guild coins Ok Ehi Thank you for everything When you are in the shop All Ah ok Ecco perché Ok Andiamo a rifarci Un posto castorone Panna certa Me devo dare Sono quasi le 7 No No che lo siano le 7 No Anca no Un po' There is one Allora I'm done Ok There is one Tra l'altro complete There is one for combination For example For example Ah le Press you and do five Pozioni It's ok Aha Capito I don't Combination Va bene Va bene Però io non credo Di avere La combinazione Per la pozione Perché non ce l'ho Yes I want to do his armor To begin I rank Se c'è ancora Cioè almeno per avere un po' De difesa Insomma Se i mosti non mi one shot Allora Questo gioiello cos'è? Water resistance Ah un anello Oh Ok Ah le devo prendere tutte The classic monster hunter Guild hunting Ah oddio In effetti si Da un bordello Da un bordello Di ricompense Fare sta cosa Senti Senti Dico Andiamo Con un'altra Ma Andiamo Eh Devi avere una ricetta Infatti Però le ricette Vanno comprate È un'altra mappa Si comprano Da quello che ho visto Comunque Andiamo a ricacciare il tipo Antatone Antatone E a cacciare più mostri Insieme Andiamo Let's go Come sta in caricamento Non puoi Non puoi essere in caricamento Andiamo 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 Non puoi restare a fare Un altro paio di volte E poi basta Per oggi Comunque è tutto il pomeriggio Che stiamo giocando a monster hunter Niente Assolutamente niente Ah non ho preso la cote E via E via E si va Fare un'armatura un po' Leggermente migliore Rispetto a quella che Ho adesso Ma almeno Mi permette di non essere One shottato Da tutti Allora ragazzi Are you ready for some buffs? We Stai calmo Ragazzi Andiamogli colpendolo un po' No dai Stavo suonando Lurido Oh 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 Mio dio Eh vabbè Si Sei morto pure te? Oh shit Oh Eh certo Non è che mi ha ammazzato Non mi ha ammazzato Sono io che sono morto apposta Vabbè Vabbè Bam L'ho stordito No non è vero No non è vero Ok Ok Te hai bisogno del buff Disegniamo un altro po' 1358 1358 Gesù bambino Quanto fa male La cosa finale Bom Easy A parte Ignoriamo le due morti Che abbiamo appena fatto Easy Ok E un'altra cosa L'abbiamo presa Aspetta C'è un oggetto Che è uguale Per entrambi Non capisco Upgrade Your armor Che è uguale Ci sono un paio di volte It should be the same As your level Non è il mio level Oh Oh Salve Dai che mi fido Pa Bianca fresca E vabbè E vabbè Buongiorno Che vuol dire Choosing higher difficulty level Will give you better rewards Come se scegli il difficulty level Oh What level is your weapon E lo 40 Per esempio Questa È molto più alta Di livello Livello 80 Nello 60 Nello 70 Si Infatti Po' tirare Lì These dual blades Are 80 Che abbiamo presa Che avvero Stati due giorni Cioè Mica che Ti aspetti Che stiamo Chissà che livello Dopo due giorni Sacco di roba È aliena Allora Deposidiamo E facciamo un'ultima Facciamo Facciamo L'ultima Caccia Non so Porto l'arco Massimo Why not Why not Let's do it No È accettato È lui che sta Ancora In wait Facebook Facebook Che sta In wait Però Dai ragazzo Ancora 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 Cosa stai Fando Ho notato Che le lusci Gave up Sorry Eh vabbè Riproviamo I'll stop There Need blue Caccia 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 Dove sta? Non lo vedo lo Yankukulu Che ha due stelle No, sono Yankaruga Ah, è G-rank Never mind Va bene, allora Ah beh, lo cacciamo e via Come si faceva che era Y Che vuol dire upgrade to party of 8? Upgrade to party of 12 Ma che cavolo? Oh Può fare upgrade E allora, ci metto in coda No, non l'ho visto Non l'ho visto Anzi, aspetta, aspetta Aspetta, aspetta Ah, vabbè, che c'è sta cosa alla fine Ah, sì, l'ho visto L'ho visto, l'ho visto No, che poi apriva Apriva tipo un'altra cosa ancora C'era Gamecube E poi dentro al Gamecube Altri soldi ancora Bellissimo Perché non mi fa fare match? Non capisco Non lo so Però in teoria Dovremmo poter fare il match Nel senso Per cercare altra gente Comunque Questa è l'ultimissimissima Oh, di questa se fermiamo Almeno con lo stream Ci fermiamo qua E scriviamo a Cristian E diciamo Oh, a Stronz Ci doveva andare C'è andato domani E se portava dietro pure Danilo Quindi A Don't Know Me Dove sono gli insetti Che stanno qua? C'è stanno Maledizione L'unico punto Che mi ha memorizzato E non ci sta Salve Io ho bisogno Della sua coda Comunque Quindi attaccherò Solo quella Olè Dai coda Lo so Che ti vuoi spaccare Devo cotar Devo cotar E lui ce l'ha con me No, ce l'ha con te Ok No, lo voglio la cosa In qui Stefano Quasi come ho shottato Never mind Non vengo lì Ok Come posso prevedere Che lo faccio cadere Scusa E lim Tu non ce l'hai i numeri Non ti sei messo I numeri di danno Tu non ti sei messo I numeri di danno I numeri di danno Ascolta Ogni tanto vedo che Faccio Beh i due non li vedo Però Vedi i miei Che ogni tanto faccio I critici arancioni E poi ci sono I super critici gialli Lol Agonesque Skippy Ragazzin Buona Sapersi Giai Grazie Grazie Addio Cambio area così Addio Wait, what? Mettono milma a ste cose Non capisco il motivo di questa visita Oh, oh, ho ottenuto un raro Un tail casing, evviva Ne potrei ottenere un altro Tac, e niente Niente tac Però la domanda mi esergia spontanea Visto che stiamo qua Nel posto della gilda Ci sta un fabbro Che a me serve un fabbro A parte a quanto pare abbiamo Completato un'altra quest Top Ok, dopo il che altro Che ci fammo con questi punti Ci facciamo solo le Là sotto non c'è niente da fare Tu fai anche la fabbro? Assolutamente no Chi può fare la fabbro? Tu? Kid Merchant? Assolutamente no Neanche te Però adesso ci potremmo in teoria Comprare i costumi Perché non li posso Ah, ma è rosso perché non lo puoi distruggere Non perché non lo puoi comprare Anche perché non lo puoi comprare Sì, vabbè Vabbè, figo Però io ho bisogno di un fabbro E qui nessuno è un fabbro Forse è gatto No Gatto is noto fabbro Aspetta C'era tutta un'altra Area Che non avevo visto What you say? Fabbro Amico mio Serve riforgiare un po' di equip Oh mio dio Se Si è sbloccata tutta roba Guardi Guardi che ora abbiamo 30 pagine di armature Dov'è la cosa scusa? Fabbro qua Eh, non l'ho trovato Ok C'era un'altra zona Che non ci sono andato C'è, sono andato a fabbro Quanto è figa l'armatura di Akantor Mio dio Questa Sì, eccola Scusami Madonna Quanta roba richiede la coda E allora hanno sbagliato la traduzione Oh Cosa da che parte hanno sbagliato la traduzione Dov'è? Infatti Tail casing È la stessa cosa Una delle due cose È la stessa traduzione Predizione Eh, vabbè Io ho 30 pagine di armature L'armatura dell'osinocle L'armatura dell'osinocle Che dà questa armatura? Difesa Fire resistance Dragon resistance Thunder resistance Eh? L'armatura stai guardando? È sempre quella di Yellow Caesar Aspetta, dov'era? Fagina 5 Come lei inizia a prendere? Prendo almeno la testa Beh, facciamo in ordine allora Prendiamo la testa Già il chest Non me lo posso più prendere A posto Ho preso un pezzo Non me posso prendere nient'altro Eh, ce lo dovremmo farmi un po' di volte dopo Dunque alcune dell'armatura L'ho vista Sono molto belle Allora Comunque direi che Per ora Possiamo Finire qui con lo stream Ci vediamo Alla prossima Forse domani Continuiamo con questo Perché comunque È veramente un bel gioco Anzi Non è vero Domani pomeriggio Non posso Quindi Se ne riparla lunedì Quindi Ciao a tutti E grazie per esserci stati Ciao a tutti